Paradrenalina 2019 è una vera e propria sfida al superamento dei limiti, un lavoro di squadra che contagia. Si è tenuta nella sala Filippini dell'aeroporto Enzo e Waltero Miccioli di Fano la presentazione della terza edizione della giornata organizzata dall'Aeroclub di Fano che si terrà sabato 18 maggio, iniziativa interamente dedicata ai diversamenti abili, ospiti speciali che quest'anno potranno provare l'emozione del volo. Paradrenalina è la manifestazione regina dell'aeroclub di Fano che anche in questa occasione vuole ribadire che volare è un'esperienza che lascia il segno e che dovrebbe essere alla portata di tutti. Questi ragazzi quest'anno godranno della volo principalmente e quindi potranno inebriarsi con un voletto qui nei dintorni. Dopo il volo c'è anche il drifting con le auto di Nicola Costantini quindi potranno provare il derrapage con le macchine nel nostro aeroporto e infine c'è anche gli Scors Jeepers che sono dei appassionati di fuoristrada, prepareremo un percorso fuoristrada dopo il terzo hangar. Ospite d'eccezione, una macchina spettacolare in dotazione all'aerontica militare italiana, un elicottero AV139 del quindicesimo stormo Sara di Cervia dedicato alla ricerca e al soccorso. Siamo fieri e orgogliosi di aver accettato questo invito, di essere presenti a Fano all'evento Paradrenalina e porteremo il nostro elicottero, uno dei gioielli della tecnologia italiana e la nostra professionalità per presentarci, per rispondere alle tante domande di questi centinaia di ragazzi e ragazze che sono curiosi di capire come vuole un elicottero e anche come periamo noi per la salvaguardia della vita umana. Paradrenalina punta concretamente non solo a far passare una giornata diversa ai diversamente abili alle loro famiglie, ma anche a sviluppare concretamente insieme soluzioni tecniche che permettono a tutti di volare. Un primo esempio è il comando ServoFly, nato da un'idea di Paolo e Davide Picchi e sviluppato dall'aeroclub di Fano in collaborazione con Hydro, azienda leader nella produzione di pompe idrauliche e tecnoelettra, leader nei cablaggi, ad altissime prestazioni utilizzate anche in Formula 1 e MotoGP. La missione è riuscire a far volare un socio dell'aeroclub di Fano, Mattia Nigusanti, che ha a disposizione un solo arto, un sogno che così diventa realtà. I sogni si realizzano con tanta forza di volontà e con tanta passione, mossa dalla volontà appunto di chi lavora per la realizzazione di un progetto che abbraccia tutti, oltre che fisicamente con tanto spirito e tanta energia, per cui tutto è possibile quando c'è veramente la volontà di poter realizzare un qualcosa di grande, nulla è troppo grande per poter essere realizzato.